Buongiorno da LentiCar, oggi abbiamo una Panda Van 2 Posti 4 ruote motrici con differenziale autobloccante. Non è un veicolo per tutti, ma è indispensabile per qualcuno. È più alta e più robusta della versione a due ruote motrici, con gomme maggiorate e ammortizzatori rinforzati. È fondamentale per chi lavora in condizioni difficili su terreni accidentali scivolosi e ripidi. Naturalmente è adatta ad ogni situazione atmosferica, soprattutto neve oserei dire. Trovare un veicolo così d'occasione è una vera fortuna. È stata immatricolata a dicembre 2013, ha percorso poco più di 90.000 km, unico proprietario, aziendabile ed è fatturabile con IVA esposta. Per conoscere la portata, le misure e tutte le informazioni utili all'acquisto visita il sito lenticar.it. È finanziabile e ritiriamo la permuta. L'inverno è alle porte, affrettati, chiama subito per fissare la tua prova su strada. Ciao!